Parto col primo. Desailly. Terzo. Terzo, perfetto. Flamini. Flamini è qua ma è super ricco, quindi... Dici, magari domani mi troviamo. Sta bene qua, sta bene. Sto bene. Dugarry. Dugarry è quattro posto anche. Gurkouf. Gurkouf era un top giocatore, ma se parliamo di quello che ha fatto a Milan, anche qua per me.